Paragrafo 16.3. I generatori di tensione. Per avere un passaggio continuo di corrente occorre garantire che agli estremi del conduttore il dislivello elettrico, cioè la tensione, si mantenga costante. Altrimenti, se viene a mancare la DDP, differenza di potenziale, in brevissimo tempo la corrente va a zero a causa degli urti che gli elettroni hanno nel loro moto. Questo significa sostanzialmente che se non c'è un dispositivo che si chiama appunto generatori di tensione in grado di mantenere un dislivello continuo tra un punto e un altro di un conduttore, a un certo punto la corrente smette di esistere, come accade nelle scariche elettriche che abbiamo visto in laboratorio quando abbiamo parlato di elettrostatica. Lì avviene la scarica elettrica, però siccome non c'è un dispositivo che mantiene sempre in tensione l'apparecchiatura, la corrente elettrica, quindi la scarica, termina in brevissimo tempo. Allora questo cosa significa? Allora immaginiamo qui in questo disegno, questo è un semplice circuito elettrico, questo è un filo conduttore che viene attraversato appunto dagli elettroni di conduzione, ovvero della corrente. Allora affinché questo movimento sia continuo, 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 perché è quello che ci serve per trasformare l'energia elettrica in altre forme di energia, c'è bisogno di un dispositivo che si chiama appunto il generatore. Cosa fa questo generatore? Questo generatore praticamente spinge le cariche dal basso verso l'alto, in modo tale che quando sono ritornate in alto, quindi a un dislivello maggiore, al livello maggiore di potenziale, le cariche tendono ad andare al livello minore. Ecco, per capire meglio facciamo un'analogia con questo circuito idraulico, praticamente, un semplice circuito idraulico. In pratica cosa succede? Immaginiamo l'acqua si trova a questo livello, per gravità, quindi caduta libera, chiaramente scorre verso il basso, andando a riempire questo contenitore che si trova a un livello più basso, quindi a un'altezza più bassa. Chiaramente adesso da qui l'acqua non ritorna spontaneamente in alto, ma c'è bisogno di un dispositivo per spingere nuovamente in alto e farla ritornare in questa vaschetta che si trova più in alto di questa. Per fare questo usiamo una pompa idraulica, ok? Vediamo un'immagine in movimento, vedete? Ecco qua, questa è proprio l'analogia. Cosa vediamo qua? Qua vediamo una lampadina che si accende, grazie al fatto che nel circuito c'è una corrente elettrica che continuamente circola all'interno del circuito, grazie al generatore, grazie a questo generatore che mi permette di mantenere costante una differenza di potenziale tra questo punto e questo punto, ok? E' l'analogia con l'impianto idraulico che abbiamo visto, ok? Qui abbiamo una vaschetta d'acqua che si trova in alto, l'acqua per gravità scende e fa girare questa palla girevole, ok? Questa ventola fa girare questo mulinello. L'acqua poi scende e confluisce in questa vaschetta più bassa. Adesso, se tutta l'acqua riempisse la vaschetta più in basso, allora il movimento finisce, il movimento della girandola finisce. Allora cosa succede qui? Abbiamo una pomba di pressione, ok? Quindi proviamo a aumentare. E quindi questa pomba di pressione prende l'acqua dal basso e la riporta in alto, in modo che poi nuovamente l'acqua scorre e passa attraverso questo tubo e fa girare la girandola. E' esattamente la stessa cosa che fa il generatore di tensione. Fra i vari tipi di generatori vediamo quali abbiamo. Beh, abbiamo le comuni batterie, ricabili o no. Questa è la batteria, l'accumulatore dell'auto, quindi le pile. Questa è l'accumulatore dell'auto. E poi abbiamo questo qui che è la dinamo di una bicicletta, ok? Si usano dei simboli grafici per indicare, poi vedremo quando disegneremo dei circuiti, quali sono, come vengono usati questi simboli grafici, per indicare il generatore. Si può utilizzare questo simbolo qui, oppure si può la pila, oppure la batteria, oppure il generatore. Ecco, questo simbolo qui è utilizzato per indicare un generatore a tensione continua, cioè differenza di potenziale costante. Poi quando parleremo della corrente alternata vedremo le differenze.